Un caro saluto da Vincent Larnast. Action! Sì, sono Anna Netta la Bonazza. Potete capire perché, come potete ben vedere. Parla il fisico. Guardate che capelli fluenti, che labbra fiammeggianti, che occhi penetranti. Oh sì, sguardi abbaglianti. Che segni sui cosi. Ho la quinta, ma adesso mi vorrei fare un'operazione. Mi vorrei mettere proprio la sestra. Che le dite, miei francesi. Poi, i glutei, il fondo schiena, è così favoloso. Le gambe scultore. È tutto un paradiso. È tutto un Eden. È tutto un cielo celestiale. E infatti, quando io cammino, passeggio per le strade del mio bel paesello, tutti quanti si girano. I muratori, mentre che lavorano, anziché lavorare, si girano. Oh, ma poi capo di tavolo? Che bozza che è questa? Mega! Ma che sbattizza tutto? E adesso si alza, ti alza il murale, ti alza tutto questo. Eh sì, abbia questo potere, questo fascino particolare, speciale. Sono così seducente. Però, c'è uno che non ci vuole stare. Si chiama Vincent. E ci dico, dai Vincent, passa da me, che la mia cosa è bella, canta sempre per te. Dai, io che sono la cosa più bella che c'è. Dai, uno, due, tre, vieni qua. Dai, su, forse, dai. C'è uno blu. Quindi dai, vieni, ti prego, non lasciare sola una così, come posso dire, così, stupenda creatura oscura, avventura qua lucente. Dai, su, dai, che abbaglieremo tutto. Saremo così abbaglianti nella mia reggia di 500 metri quadri, con piscina, con parco, con giardino in mezzo, c'è tutto. Praticamente un castello, una reggia, infatti un castello. Quindi, saremo così abbaglianti che accecheremo il sole. Credimi. No, però io sono fedele alla mia reggina. Ti ringrazio. Sei una bella creatura. Su questo non c'è dubbio, però sono già impegnato. Grazie mille. Comunque, sempre incantato. Ascia a te. Mia bella creatura. Vabbè, mia bella donzello. Però non posso. Ma dai, su. Io ho vinto Miss Italia nel 1990. E adesso anche, ora che ho una quarantina d'anni, guarda, sono sulla Cisternond. Quanto sculetto qui, meglio di Mimo. Perché poi arriverà anche il turno. Il turno di... Ciao. Mimo Mercurio, alla prossima puntata. Non c'è un ritorno, ma di me c'è sempre un ritorno. Ciao. Un'altra puntata, un altro capitolo. Abbiate pazienza. E da lo sculetto. Qui, guarda, anche la passeggiata. Più, più affascinante. Nel mio paese, non solo. Quindi, guardate che tacchi, guardate che classe. Perché io sono una fuoriclasse. Io sono una fuoriserie. Io sono una fuori tutta. Quindi, Vincent, viene qui che sarò bello al calduccio. Sarà una bella, una bella giornata, una bella serata, una bella nottata. Tutto quello che vuoi tu. Non ti preoccupare, Vincent. Ti dispiace, ma sono impegnato. Per me la fedeltà è una cosa fondamentale. Ti ringrazio ancora per l'invito. Sono lusingato per questo. Grazie di cuore davvero. Grazie infinite. Però, in un'altra vita. In questa no. Va bene, però ricorda che la mia casa è per te sempre aperta. Guarda come squelta. Pi, 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 pi. Dai, faremo i ballerini. Tutti ebriachi, inebriati. E dai, sarà così. Sarà uno sballo tanto bello. Dai, forse sarà un paradiso vero. Dai, sarà un inferno, un paradiso allo stesso tempo, al contempo. Dai, su, fioccheranno delle cose mai viste prima. Dai, delle feste dorate, gloriose, pazzesche. Fidati di me, che io ho sempre fatto impazzire ogni uomo. Sempre impazzire. Dai, su, va bene. Tu non vuoi? Spero che un giorno cambi la idea, perché la mia porta è per te. La mia porta sacra, su cosa? Quella prelibata, preibita per qualcuno. Per te è sempre aperta. Ciao a tutti, miei fans. Da Anna la bonazza, l'autentica bellezza. Ciao! Ciao!